Musica Back in Coffee Notizia, ovviamente, logicamente il nostro chieda purba sigue il desarrollo di, particolarmente, 100 martinaia Anche altre, noi abbiamo anche un lavoro che aveva tutti i nostri lavoro Oggi abbiamo anche un articolo, anche del vostro lavoro Ma mentre abbiamo anche un lavoro senza l'intero Noi, diciamo, abbiamo tutto il nostro lavoro C'è? Cosa insomma, siamo sempre sarvati Avviva, noi siamo aspetti C'è ormai, non mi sorgso di essere Alla sera, nostra siamo il servizio metodologico, quando si è anticipato che lo ha comissato a sentire fuori 10 ore, nonostante che ci sono un po' più tardi, che è passato di un'ora, ancora è stato abbastanza tranquillo, un po' molto bene, però che il nostro Pape è oggi con il signor Tarik Abraham, di servizio metodologico, e ha detto che ci sono un po' di anticipare a questa notte, che è avvenuto in questo momento, particolarmente nel San Marte. Voi ascoltare il signor Abraham. Il sistema è movimento attualmente, e ora è avvenuto in San Marte, il primo effetto di vento di tormenta, secondo che si è movimento, e il vento di orcani, e il vento di orcani, per il curso di mattina, il sistema è movimento all'abai, e il vento di normalizzare. naturalmente ho effetto, ma ora con il orcano passa, ho fatto il viento come la nostra comincia a sentire effetto in mattina, in febriano alle 10 ore ho cominciato il viento in tormenta per la mattina, in cursa di mardugamento ho fatto il viento in orcano ho fatto il viento con 6 ore a mattina, ho fatto il viento ho fatto l'acero con il sistema che si chiama ora ho fatto l'acero ho fatto l'acero ho fatto il viento con il viento con il corrente che si chiama fokio ho fatto il viento in differenti effetto dove vieno il sistema che ci si chiama si chiama il sistema che si chiama il suo mese ho fatto il vieno normalizzato però in quanto c'è il aftermatch che ci siano effetto dopo il sistema che si chiama dove si chiama il sistema che non ci si chiama su trazione ho fatto il sistema tropical Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.